Che te puoi dire, tra virgolette, salvare la vita in gioco, perché questo, quando ti fai così, è una macchina, non un degli spugliatori, non una macchina. Ti devi comprare un degli spugliatori, di marca in feice e di modalità di replica in feice. Se te avessi questo, sei da considerare un sano giocatore di soltanto. Un ragazzo serio, un little boy.